Arrivo di Tommaso Franchi nella casa del Grande Fratello Spagnolo Recentemente, il concorrente del Grande Fratello Italiano, Tommaso Franchi, ha fatto il suo ingresso nella variante iberica del reality show. La sua esperienza è iniziata con una sorpresa speciale per Maika Benedicto, una partecipante del programma spagnolo. Nella serata del suo arrivo, Tommaso ha avuto l'opportunità di incontrare nuovamente Maika, con la quale aveva stabilito una connessione emotiva durante il suo soggiorno in Italia. Sì mi è mancata, e, stato bello farle questa sorpresa. Le dirò che è una persona splendida e che volevo incontrarla perché ho sentito una forte connessione con lei. Incontro emozionante tra Tommaso e Maika, dopo una introduzione al format del programma da parte del conduttore, Tommaso ha finalmente potuto abbracciare Maika. La reazione di lei è stata di totale stupore e gioia. Mio Dio non ci credo, ma com'è possibile? Che cosa forte, non posso credere che sei qui con me. Maika ha mostrato un caloroso orecchio a Tommaso, accompagnandolo in un tour della casa, evidenziando stanze come il salotto e la cucina. Inoltre, non ha esitato a invitarlo a passare la notte nella sua stanza, esprimendo la sua felicità nel rincontrarlo. Sono così felice, non riesco nemmeno a esprimere bene quanto sono contenta. Reazioni e sentimenti dei protagonisti, successivamente, il conduttore ha invitato Maika a condividere le sue emozioni riguardo all'incontro. La ragazza ha rivelato di essere profondamente sorpresa e toccata dalla visita di Tommaso. Sono sotto shock perché non me l'aspettavo. L'universo mi ha mandato un segnale. Tommaso, dal canto suo, ha parlato della sua decisione di viaggiare dopo dieci anni, un cambiamento significativo sia per lui che per la relazione in sviluppo. Pensa che erano dieci anni che non prendevo un aereo, e ora l'ho ripreso per venire qui da te.